Igor Riezzi, che è il segretario provinciale della Lega Nord per Milano, oggi in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziale, la Lega ha manifestato davanti anche a alcuni tribunali. Voi siete stati a Milano per un duplice motivo. Sì, noi abbiamo detto no ai vari provvedimenti svuotacarcere, ai vari indulti che il Governo si sta propinquando a fare, a votare alla Camera e al Senato. In più avevamo una motivazione, tra virgolette, locale, perché l'Eco è stato poi nazionale, che lunedì prossimo ci sarà l'udienza per la scarcerazione di Cabobo per trasferirlo in un ospedale psichiatrico. Oggi c'erano tutti lì i magistrati e abbiamo voluto fare sapere a chi dovrà decidere sull'eventuale scarcerazione che noi non ci stiamo e che soprattutto a Milano, ai cittadini di Milano e ai parenti delle vittime, non è giusto regalare questa ulteriore offesa che non merita.